i borghi delle dolomiti più suggestivi durante questo periodo le prime nevi imbiancano le montagne e l'atmosfera natalizia inizia a farsi sentire quali sono i borghi più belli delle dolomiti da visitare in queste settimane partiamo da col fosco in provincia di bolzano un piccolo centro storico fitto di casette in pietra e in legno da cui spunta il meraviglioso campanile della chiesa di san vigilio in foto dall'aspetto gotico impossibile non perdersi nel fascino della sua natura mozzafiato sappada tra neve e piste da sci è invece al confine tra friuli venezia giulia e veneto all'estremità orientale delle dolomiti che sorge il paesino di sappada prov di udine incastonato tra le montagne a oltre 1200 metri di quota è cinto da rigogliose foreste tra le quali immergersi per lunghe passeggiate autunnali e se la neve è già arrivata le piste da sci sono un'ottima attrazione per gli amanti dello sport vipiteno un paesino coloratissimo il coloratissimo borgo di vipiteno prov di bolzano si trova nell'alta valle dell'isarco a pochi chilometri dal confine con l'austria il suo simbolo è la torre delle 12 che divide la città nuova dalla città vecchia è alta ben 46 metri e purtroppo non possiamo più godere del suo aspetto originario a causa di un devastante incendio che la distrusse campitello di fassa incastonato tra le montagne si trova a quasi 1500 metri di quota in un'ampia valle circondata dalle dolomiti stiamo parlando del borgo di campitello di fassa prov di trento tagliato in due dal torrente duron il suo centro storico è davvero grazioso con il campanile della chiesa dei santi filippo e giacomo e le tante vetrine illuminate dove fermarsi ad assaporare qualcosa di buono merano un gioiello prezioso decisamente più popoloso è il borgo di merano prov di bolzano anch'esso incastonato tra le montagne e a due passi da alcuni importanti impianti sciistici è sin dall'antichità una famosa località di villeggiatura che in questo periodo non è ancora troppo affollata si può approfittarne dunque per visitare il suo bellissimo centro storico dove spunta il celebre monumento in stile liberty couraus lorenzago di cadore piccolo borgo nella natura le imponenti dolomiti fanno da sfondo al piccolo borgo di lorenzago di cadore prov di belluno che si dipana in un'ampia vallata rigogliosamente cinta dai boschi è il luogo ideale per chi ama stare a contatto con la natura e fare attività all'aria aperta anche in attesa che arrivi la neve per poter andare a sciare brunico dove si respira la magia del natale l'alto adige in questo periodo dell'anno è davvero splendido il borgo di brunico prov di bolzano perla della valpusteria è una delle mete preferite dai turisti il suo centro storico è ricco di edifici preziosi e monumenti bellissimi e proprio ora inizia ad illuminarsi a festa tra addobbi e mercatini di natale san candido perla della valpusteria rimaniamo in valpusteria per scoprire il borgo di san candido prov di bolzano è qui che nasce il fiume drava uno degli affluenti del danubio ed è per questo che rappresenta uno dei pochi comuni italiani appartenenti ad un bacino idrico estero passeggiare tra le viuzze del centro è davvero magnifico godendo del panorama delle tre cime di lavaredo nel il paesino tra le dolomiti bellunesi inserito tra i borghi più belli d'italia e insignito della bandiera arancione il paesino di nel prov di belluno si trova incastonato tra il fiume piave e le dolomiti bellunesi sul suo territorio si possono visitare ben tre antiche fortezze tra cui il suggestivo castello di zumelle luogo di mille leggende fiera di primiero tra storia e natura infine ecco il piccolo borgo di fiera di primiero prov di trento un tempo qui vivevano i tantissimi lavoratori impiegati nelle vicine miniere di rame argento e ferro delle quali oggi resta solo un'antica testimonianza si tratta del palazzo delle miniere dove si può visitare un museo dedicato alla storia e alle tradizioni del paese ti è piaciuto il video iscriviti al canale metti un like e attiva la campanella